E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo ascolto, io sono Mitchell e oggi si parla di un documento scritto in lingua latina da Luke Brando, Vescovo di Cremona, che parla della storia dell'Europa da 188 a 962. Ricchi, di chi si parla? Beh, si parla degli Ungari. Ah, degli Ungari Magiari, quelli che hanno dato il nome alla quale Ungeria. E come ne parla questo scritto? Beh, ne parla come un popolo infame e senza Dio, popolo malvagio e sanguinario, popolo che depredava e occupava le terre dei bavaresi, Sassoni e Franchi. Wow, e ti d'informazione? Allora, Mela, quali erano le specificità riguardo alle loro usanze? Ad esempio, le madri usavano lame molto affilate per tagliare il viso dei neonati. Ahia, e lei facevano questo? Beh, lo facevano per far sopportare ai neonati il dolore fino a più. Ah, ok. Bene, Federica, che cosa facevano i funerali, i parenti dei defunti? I parenti usavano ferirsi per esprimere il loro dolore. Ah, ok. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti per averci ascoltato, dico. E grazie anche a Riccardo, a Melania e a Federica per averci informato riguardo gli Ungari. Bene, spoliciate più che potete, commentate e niente, al prossimo audio!